In italiano, you know, you know pronto what it is. Quando ti squilla il cellulare, sei pronto. It's like who is. Yeah, yeah, I like it. It's like, è un hip hop vecchia scuola, fatto però in chiave nuova, no? Cioè, loro proprio stanno rappando. Il sound della base e del flow a volte mi ricorda Bobby Shmurda. Lievin. Qual è il nome di Lievin? Laivin. Laivin. Sembra Marino. È lui? Sì. Ah, non sembra Marino. Sì. Questo è meglio di quell'altra. Preferisco questo tipo di sound, io. Oh. Flexing. Finesse. Ma cazzo, questa spacca, ragazzi, dovete sentire. Gucci. Icy. Mini rock. Questa spacca. Sì. 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 Mi piace. Sì Sì. Il sonno non è il mio tipo, e non capisco i libri. Quindi è troppo aggressivo. Preferisco quando ci sono molte melodie, preferisco le cose più melodiche O quei giochi di flow come nella canzone prima Però si vede che loro sono già abituati a fare video, a registrare canzoni Il video è bellissimo, loro sono vestiti benissimo Si muovono anche come se fossero professionisti, già ho capito Cioè si vede che comunque non è una cosa fatta così tanto per fare, quindi spacca Si vede già che è il più forte lui, guarda Guarda come è iniziato il video e si vede già che è A me piace questo stile qua Ha messo la collana alla film, però non ho visto Questo spacca Cosa mi piace? Questa spacca di brutto, si sente? Cioè si vede che lui è famoso, bello, bellissimo Anche il video è bellissimo Cazzo ma i video li fate bene qua in Svizzera Anche quello di prima aveva un montaggio minchia Quando sono arrivato in Svizzera mi hanno parlato di lui Bello